Ah io ho parlato, lui ha parlato... Cosa? Che ne sovi, che puoi dire? Boh! Ciao! Grazie per esserci in stanza! Addio, buonanotte! E stiamo sui ragazzi, questo è il Watermelon Channel! Siamo qui per fare la recensione, finalmente, di Elden Ring! Devo averci giocato per parecchie ore, siamo pronti per darvi la nostra opinione, soffermandoci un po' su quella che è la trama e la lore, ma anche magari facendo emergere qualche particolarità che abbiamo annotato all'interno del gioco. Quindi sì, partiamo dalla recensione, partiamo subito! Un open world immenso, tutto da esplorare, Elden Ring è l'ennesimo capolavoro di Miyazaki, forgiato dalla pena di George Martin, che si fa sentire già dalla prima metà del gioco. Un mix di Dark Souls e Skyrim, che è appreso il genere del Souls-like e l'ha trasformato in qualcosa di totalmente nuovo e magnifico. Già dal menù di creazione dei personaggi, si evince un'attenta cura nei dettagli. Ora, infatti, oltre alle numerose classi tra cui poter scegliere, la personalizzazione del personaggio si presenta ancora più minuziosa, grazie alla vastissima cura di ogni minimo dettaglio, dalla testa ai piedi. Il mago risulta essere per molti aspetti la build vincente, se vi piace vincere facile. Se nel corso del gioco vedete però che il vostro personaggio non vi convince particolarmente, ci sarà la possibilità di riassegnare i punti, sconfingendo però prima un determinato boss. A primo acchitto può sembrare un normalissimo Souls-like, ma da subito emerge un particolare, la mappa. Un elemento fondamentale in quest'open world. Bisogna scoprirne i vari frammenti che sono presenti sotto forma di perk, accanto a delle pietre miliari sparse in giro per il gioco, che si possono già individuare man mano che si prosegue e si accede alla mappa. Una volta raccolti i frammenti, si possono individuare l'ingresso delle miniere del regno, le rovine di antichi villaggi, le prigioni ancestrali dove affrontare creature condannate all'esilio eterno, oppure le chiese di rovina dove potenziare le ampulle. L'esplorazione del vasto interregno è coadiuvata dalla presenza di torrente, il cavallo, che possiamo chiamare per aiutarci a muoverci più rapidamente da un luogo ad un altro e per letteralmente fuggire dai nemici o per compiere salti che senza di esso non avremmo potuto affrontare, anche perché è dotato di doppio salto. Dall'altopiano di Sepolcride, un posto apparentemente tranquillo, che c'è l'ostilità in ogni dove, terra degli antichi re e dei lord ancestrali, al servizio dell'anello, si valicano le acque marcescenti delle terre di Caelid, dove ad aspettarvi ci saranno solo guerre e draghi. Vittima della disgregazione che ha trasformato le terre in un incubo avvolto dalla morte e sospeso nel tempo. La stessa Liurnia resta ancorata alle macerie di Raya Lucaria, dove l'alta magia dell'Accademia continua a restare viva nei suoi discepoli. Queste sono solo le radici del grande albero che domina lo scenario, che si rivela a essere la meta ultima del viaggio per diventare un lord ancestrale. Qualsiasi classe scegliamo, saremo perlomeno agli inizi dei senza luce, esseri rinati dopo la disgregazione e tenuti in vita da una brama di rune. A differenza dei non morti, i senza luce non necessitano di lottare per ottenere le rune maggiori, ma sono obbligati a farlo per sopravvivere in un mondo malvagio. Un regno diviso tra tre sovrani, Godric a Castello Gran Tempesta, Morgoth alle radici dell'albero ancestrale e Mogwin nel mondo sotterraneo. Casa di potenti demoni e di anime corrotte. Fin da subito viene consigliato di esplorare ogni cunicolo di questa immensa mappa, lì dove si scoprono caverne dai segreti più pericolosi, ai castelli in rovina pieni di storie. Il nostro unico scopo sarà porre fine alla disgregazione, accettandola o affrontandola e avere il coraggio di sconfiggere coloro che non lasceranno facilmente i loro troni. E per questo ricorreranno a metodi poco ortodossi e al di fuori delle capacità umane. Diventare lorda ancestrale per avere il controllo dell'anello o lasciare che tutto si perda. Per un Conscious di un qualsiasi capitolo di Dark Souls non si potrà fare a meno di notare diversi punti in comune. Elder Ring li riprende tutti quanti, realizzando un'opera gigantesca che va ben oltre ciò a cui siamo stati abituati nell'ultima decada. Nonostante George Martin è alla co-scrittura, l'autore del Trono di Spade avrebbe potuto far pensare alla presenza di una narrativa esplicita in sostituzione della famosa lore che ha reso celebre From Software. Ma semplicemente non è così. Bisogna ancora lottare per ottenere dettagli e informazioni, leggere ciascuna descrizione, osservare il mondo di gioco e analizzare il contesto. Solo allora si potrà completare il gigantesco mosaico della storia. La vera novità di From Software è che ci ha portato un nuovo open world, realizzando un mondo di gioco che non solo è mastodontico, ma che riesce nel difficilissimo intento di non annoiare, replicando una magia che non importa dove ci si trova sulla gigantesca mappa, basta guardarsi intorno pochi istanti perché qualcosa catturi l'attenzione, il tutto circondato da una persistente bellezza e cura dei dettagli, come l'albero che rimane sempre visibile, come un faro che ci ricorda sempre qual è il nostro scopo, a meno che non si vada nei sotterranei, e anche in quel caso, riproduzioni illusorie dell'albero ci appariranno per non perdere la via. Lì dove la componente rolistica risiede, si creano rapporti tra il player e i tantissimi diversi personaggi del reame, le uniche entità in grado di mostrare senza luce la giusta direzione. L'ultima a morire è la speranza di non essere stati imbrogliati al fine di svolgere piani malvagi, o finire preda di un cacciatore di rune, ma di essere effettivamente aiutati a proseguire nella vasta mappa. Personaggi guida saranno sempre al nostro fianco, e a volte sacrificandosi pur di salvarci. Resta tuttavia incredibile il modo in cui le questline sono stati intersecati con il mondo di gioco. Esistono missioni lunghissime, talvolta dispersive, non essendo presente o meno un riepilogo in missioni, che vanno dai primi momenti di gioco fino ai titoli di coda, alzando il sipario su enormi sezioni di mappa segrete, addirittura su intere regioni completamente opzionali. Per non parlare ovviamente dei finali multipli, che nella piena tradizione del genere sono riservate solamente ai giocatori che più di tutti gli altri hanno cercato e infine svelato i segreti dell'interregno. Parlando appunto dei personaggi, si nota fin da subito che il livello iniziale di gioco non è per niente equilibrato per affrontare le ostilità, almeno per quanto riguarda la storia in principale, ma è un male minore che serve per indurci all'esplorazione, che, come già detto per Elden Ring, è la sua chiave di lettura. Troviamo mini-boss che ci aiuteranno a livellare, luoghi dove è possibile farmare, neanche troppo difficili da utilizzare, come se Front Software avesse compreso il peso di una mappa così vasta e deciso per la prima volta di aiutare esplicitamente il player nella sua crescita del personaggio. Le ceneri, evocabili in determinate situazioni di pericolo tramite una campana, sono un elemento aggiuntivo che contraddistingue ancora di più il nuovo titolo dei precedenti. Un aiuto ulteriore per affrontare le boss fight con maggiore sicurezza quando si combatte. Il salto È un altro punto di forza di Elden Ring, ancora migliorabile sotto certi aspetti, ma sono dettagli. Il salto rappresenta un modo per aiutarci a muoverci meglio all'interno del vasto legno e l'attacco in salto risulta molto potente. Se siete overrivellati, sarà una passeggiata a battere i boss, specialmente se evocate alle ceneri. Un punto sfavore va dato proprio a loro, dato che i personaggi si ripetono più volte nel corso della mappa e talvolta presentano bug che li rendono abbattibili senza muovere un dito. Per quanto riguarda la difficoltà del gioco, le ceneri di guerra e gli incantesi mi renderanno tutto più semplice. Nel complesso, essendo un open world, se si reputa un posto o un boss molto difficile da affrontare, a differenza di un Dark Soul che è molto più lineare, qui si può continuare a esplorare, per poi ritornare in quel punto magari più forte di prima. In generale non è un gioco impossibile, ma neanche troppo facile. Per essere davvero forti o apparentemente invincibili, bisognerà prima potenziare armi e ceneri, rispettivamente con pietre da forgiatura o con ballaria, presenti in tutta la mappa, o reperibili attraverso i globici nerei. Il multiplayer è asincrono con presenza di fantasmi, tra cui NPC che ci mostrano la via. Per quanto riguarda le vocazioni, si possono effettuare solo nei pressi dei Lughi di Grazia, e possono avvenire solo se si è possesso di un oggetto consumabile, in pieno stile soul, e non è possibile evocare più di due amici alla volta. Oltre che le ceneri e torrente, il cavallo. La grafica è bella, ma non spettacolare per un gioco next-gen, che va a riprendere quello stile un po' datato, già trito e ritrito dei classici vecchi souls. C'è da dire che però c'è molta cura nei paesaggi, estremamente variegati, che lascia una bocca aperta, ognuno accompagnato da uno sottofondo musicale, che talvolta mette angoscia, e altre ci fa sperare in una sorta di calma, e induce ad esplorare ogni angolo ben curato della mappa. In conclusione, possiamo dire che Elder Ring è un gioco mozzafiato, che lascia i player a bocca aperta e fa avvenire sempre più voglia di scoprire ciò che si cela in ogni posto, caverna e luoghi mistici nel sottosuodo, raggiungibili tramite teletrasporti o montacarichi, e che nella loro apparente quiete mettono il nostro personaggio ancora una volta a dura prova. Tantissimi dungeon, quest, oggetti e incantesimi da scoprire rendono l'esperienza di gioco sempre più intrigante man mano che si avanza e vi terrà impegnati per un bel numero di ore, prima di scoprire il finale che vi attende, e farà appassionare anche i non amanti dei souls. È un nuovo mondo che ti attira e ti lascia a suo fatto e penotizzato. Bene, abbiamo detto che questa è una recensione con voto, quindi diamo un voto a questo gioco dopo questa recensione, speriamo abbastanza approfondita e che insomma vi sia piaciuta, e il nostro voto complessivo a Elder Ring è... 9.5 su 10. 9.5 su 10. Quel mezzo voto l'abbiamo dovuto togliere, nonostante noi siamo rimasti veramente ipnotizzati e suoi fatti, come abbiamo detto poco fa, da questo gioco, perché ci sono ancora un po' di cose migliorabili, ci aspettavamo un po' di più dalla grafica, un po' meno bug, forse voluti, forse non voluti, non sappiamo. Un po' qualche particolare ancora da aggiungere, come il fatto che i boss si ripetono molte volte, cioè ci sono boss fight che a volte sembrano le stesse perché i personaggi sono sempre gli stessi, quindi anche questo può essere ripetitivo, un po' ridondante, un po' troppo... che poi annoia. Diventa un Lord Ancestrale... non mi ricordo. Sto mettendo i miei bloppers alla fine, con la musica... questo è un bloppers. Squatch. Non ruttare. Un po' di alien. Bloppers. 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 Ma è copyright questa cosa che sto facendo? No. Bloppers. Bloppers.